Quando mi è stato proposto di fare Feidò, appunto sinceramente la mia reazione è stata porca miseria, adesso io come ne esco da questo vicolo cieco in cui mi ero ritrovato, nel senso che anche un po' ingenuamente da parte mia la prima cosa a cui sono andato con la fantasia è quella montagna di immaginario artistico, teatrale, che ci portiamo appresso da un secolo di tradizioni di messa in scena in cui noi abbiamo idea della filodrammatica di Paese che mette in scena Georges Feidò e quelle messe in scena, diciamo così, perennemente tranquillizzanti, anche un po' narcotizzanti che accompagnano le varie edizioni di Georges Feidò. In realtà una delle grandi chiavi di volta nella riflessione sull'albergo del Libero Scambio e su Feidò è stata quando sia io sia Davide che è l'autore dell'adattamento del testo, abbiamo incominciato a riflettere su cosa in realtà voleva dire per la borghesia di fine ottocento, per la borghesia di inizio novecento, vedersi per la prima volta in scena raccontata in quel modo, l'effetto deflagrante che doveva fare la risata che accompagnava in maniera era quasi catartica, una riproduzione grottesca di quello che era il loro contemporaneo. Ecco, a partire da questo l'intento, il desiderio che abbiamo, che ha seguito Davide nel suo lavoro di riscrittura e anche nel cercare di trovare un linguaggio per raccontare questa storia poi con gli attori, è stata interamente mirata nel cercare di ridare questa forza deflagrante al testo, alla messa in scena affinché si potesse creare un vero cortocircuito con lo spettatore, con un pubblico, effettivamente un pubblico di un teatro stabile, quindi di un teatro nazionale che non si può limitare a raccontare George Feido così come ci è stato tramandato in cento anni di messe in scena, quindi tranquillizzante e letargico come dicevo prima ma che potesse, affinché si potesse riaccendere nuovamente quella miccia, anche quello scandalo che in realtà la drammaturgia di Feido accompagnava, che accompagnava le prime messe in scena delle opere di Feido questa è stata sicuramente una delle chiavi di volta che ci ha fatto pensare, che mi ha fatto pensare a quale doveva essere il risultato, cioè dove dovevamo arrivare con tutto questo lavoro una specie di gigantesca macchina comica che mettesse davanti allo spettatore lo spettatore stesso da qui noi siamo arrivati a ipotizzare una scena, innanzitutto la riscrittura di Davide, poi anche una scenografia che fosse soprattutto in prima battuta la più realistica possibile, in genere io rifuggo da scenografie così specifiche, preferisco la sottrazione nel lavoro di spazio in realtà qui era fondamentale che nel momento in cui il sipario si apre o si accendono le luci lo spettatore vede davanti a sé un posto in cui effettivamente potrebbe stare anche lui questo è importante affinché l'assurdo con cui noi costruiamo tutto lo spettacolo porti poi per mano lo spettatore alla fine a dire cavolo ma io potrei essere quella roba lì se anche solo uno spettatore riesce a pensare una roba del genere alla fine dell'albergo del libro scambio questo è un miracolo una cosa che io amo profondamente della riscrittura che ovviamente ha influenzato il lavoro di messa in scena è che la riflessione su questo mondo borghese completamente folle di cui parla Davide esattamente come il mondo in cui viviamo noi, lo diceva Pasolini che oramai non esistono più le classi sociali esiste una grande classe sociale che è la borghesia, gli avessimo dato ascolto prima ecco in questa unica grande classe sociale in cui viviamo una delle sue caratteristiche fondamentali è l'immobilità immobilità sociale, immobilità... un'immobilità che nasce, che è tipica di queste persone perché abbiamo un terrore blu, una FIFA blu che le cose intorno a noi cambino e cito proprio una delle battute della riscrittura di Davide questa immobilità di fondo che era già presente in realtà nella drammaturgia di Feido perché i personaggi di Feido fondamentalmente compiono peripezie gigantesche all'interno della macchina scenica del vaudeville per poi ritornare sempre esattamente al punto di partenza affinché niente cambi per proteggere quello status quo che c'era all'inizio della... all'inizio del testo, all'inizio dello spettacolo ecco questa immobilità... quindi immobilità non intesa come assenza di movimento ma come impossibilità nostra dei personaggi ma nostra di conseguenza di avere veramente il coraggio di tentare di fare qualcosa che possa cambiare il ridicolo stato di equilibrio in cui mi trovo in questo momento questa immobilità ha influenzato ovviamente poi la messa in scena perché l'albergo del libero scambio pera par excellence, lo dice il titolo stesso, richiede che almeno nel secondo atto i personaggi che nel primo e nel terzo si trovano dentro al salotto del protagonista tutti desiderino in qualche modo andare appunto nel secondo atto, nell'atto centrale, all'albergo, no? Il grande gioco di provocazione dello spettacolo è che in realtà non se ne accorgono ma il secondo atto è ambientato sempre all'interno del salotto di Panglè, del protagonista è come se veramente avessero difficoltà ad uscire anche dalla stanza per loro in realtà sono nell'albergo anche se il set è completamente identico questo qualcosa ci dice, un po' richiama qualcosa è chi con qualcosa che potrebbe riguardarci ce ne sono, l'ho trovato molto seduttiva come cosa Non provo una predilezione per la commedia Certo, la scelta radicale di fondo è cercare di trovare qualcosa che mi possa permettere realmente di rischiare Se sento che c'è la possibilità di rischiare su un progetto allora lo abbraccio a piene mani Mi piace l'idea di provare almeno per ora Cioè almeno adesso con i 31 anni che ho cercare di forzare, facendo sbagli e di questo ne sono consapevole forzare le possibilità del teatro e del linguaggio che utilizzo alla ricerca di un rischio qualcosa che non sia completamente come dire, che non sia aprioristicamente in accordo con quello che lo spettatore immagina di venire a vedere a teatro Ecco, questo rischio in alcune commedie, in alcuni meccanismi comici come dicevi tu prima che mi sono trovato ad affrontare l'ho trovato molto divertente perché è profondamente spiazzante per lo spettatore immaginario di andare a vedere Goldoni e trovarsi di fronte a qualcosa che magari o andare a vedere Cenerentola e vedere qualcosa che in quella storia non gli avrebbe raccontato mai Evidentemente il appunto ecco un'altra cosa su Feido cioè Feido mi ha dato un grande aiuto nel cercare di spostare la sticella del rischio ancora più su Proprio di partenza di partenza c'è il massimo della banalità nel senso che io stavo facendo il primo anno di università una mia ex ragazza mi ha lasciato io ero molto legato a lei avevo un sacco di tempo libero allora non sapevo come riempirlo visto che mandavo poco all'università ho visto una locandina di un corso di teatro e ho detto ma quasi quasi prova a riempire il tempo così e poi lì in realtà è successo una cosa che è stata sconvolgente per la mia vita nel senso che da quando ho incominciato a il motivo per cui mi ci sono ficcato dentro era interamente completamente di pancia era un senso di divertimento di piacere di pienezza dell'espressione per cui io adesso non riesco a pensarmi senza teatro nella vita poi ovviamente dopo no dopo la scuola del teatro stabile dopo aver fatto la scuola dello stabile dopo aver fatto anche la carriera come attore eccetera eccetera incomincia a razionalizzare perché non puoi fare a meno di vivere di teatro certo è che per me il teatro è una roba egoisticamente è una roba unica perché mi permette in realtà di avere un rapporto con le persone che arriva ad avere una tale profondità è una tale verticalità nella conoscenza che io trovo unica cioè perlomeno per me io non conosco un altro modo per conoscere così bene le persone ma conoscere così bene il mondo che mi circonda come il teatro per me è uno strumento di conoscenza pazzesco per questo poi anche la regia mi interessa la regia mi interessa così tanto perché diventa uno strumento di conoscenza ecco di fronte a uno stato di salute del teatro così precario come quello che c'è in Italia oggi se dovessi pensare anche al perché cioè a qualcosa che vada oltre una motivazione egoistica mia personale del fare teatro io penso che sia importante sia fondamentale che qualcuno continui a farlo perché il teatro è ricerca di senso è solo questo e fare teatro senza ricercare il senso è immorale una cosa che io penso tantissimo e che influenza anche un po il mio lavoro è che chi fa parte della fa parte della mia generazione ma anche di poi quelle immediatamente successive è nato e cresce in un paese massimo recalcati ha trovato una bella definizione su questa cosa no una patria senza padri c'è una grossissima difficoltà nel riuscire a creare un rapporto sano di trasmissione di sapere di know how tra generazioni più adulte e le nuove generazioni quindi la mancanza proprio fisica di maestri di qualsiasi tipo dal maestro nel teatro da riferimenti ideologici da riferimenti politici etici insomma ci potete mettere tutto quello che vuoi in questa definizione è forte e si sente detto questo io ho avuto la fortuna di conoscere comunque conoscere delle persone che fortemente hanno influenzato il una mia idea di di teatro come per esempio Peter Brook grazie a Bruce Myers ho conosciuto Brook sentirli parlare e lavorare in teatro con queste persone per me è stata la differenza è stato molto bello anche la possibilità di lavorare come attore con la tela è stato molto bello per quanto poi insomma c'è stato un distacco evidente da un punto di vista stilistico però come attore conoscere il fatto che il teatro si può fare anche non in uno stato di ansia di tensione e di nevrosi ma riuscire a costruire qualcosa di bello con un gruppo con cui lavorare insieme con cui innescare un meccanismo di creatività queste sono forse le le figure teatrali che maggiormente mi hanno ispirato poi c'è la musica rock tantissimo gli ACDC sono un grande punto di riferimento e di longevità nella creatività costurizza per quanto riguarda la follia e poi la insomma la grande letteratura questo a chi fa teatro aiuta in genere secondo me la grande letteratura perché noi da soli non siamo sufficienti per essere interessanti per il pubblico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti